Crolla una parte dell'intonaco del soffitto nella scuola elementare di Subbiano che rimarrà chiusa fino al 6 di aprile. La segnalazione ci arriva nella nostra pagina Facebook da una mamma che ha pubblicato le foto di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri. I vigi del fuoco sarebbero intervenuti solo stamani, avvisati dai genitori stessi. Pare infatti che da parte del comune di Subbiano, non appena presa la notizia, non ci sia stata alcuna comunicazione per lasciare a casa i ragazzi, ma abbia inviato subito due dipendenti a ripulire la zona. Al momento dell'arrivo dei pompieri alcuni alunni erano già entrati, altri stavano aspettando fuori dall'edificio. I vigili hanno effettuato il sopralluogo nelle classi interessate dal distacco dell'intonaco che si trovano tutte nella parte inferiore dell'edificio ed hanno decretato la chiusura dello stabile fino al ripristino e alla messa in sicurezza delle aule. Solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco è stata emanata un'ordinanza da parte del comune di Subbiano che dispone la chiusura della scuola fino al 6 aprile 2014. La particolarità sta nella data dell'ordinanza, 31 gennaio 2012. Un lapsus, un pesce d'aprile, non lo sapremo mai. Nella fotocopia che ci hanno poi inviato altri genitori si legge la data del protocollo, 1 aprile 2014.